Per me il teatro rappresenta il colluvio di due parole, realismo e verità. Realismo perché quando ti mettesi in un personaggio, praticamente tu dimentichi quel personaggio, il realismo. Verità perché quando sei in un palco scenico, attraverso il personaggio che interpreti, puoi dire tutte le verità, anche quelle più scomode. Però nel corso degli anni il ruolo dell'attore è cambiato parecchio. Perché nel secolo scorso l'attore non è altro che un mestierante, il ruolo dell'attore è un mestiere. Oggi praticamente le arte, una volta gli attori si venivano chiamati anche tutti, servivano solo per far divertire la gente. Infatti non a caso è nato nel teatro degli spettatori che quando esce l'attore gli urlano non faccia ridere, perché è l'unico scopero quello, fatemi divertire. Adesso oltre gli attori sono dei veri artisti. Grazie. 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 Grazie.